Questo esemplare ha 102 anni, è stato prodotto nel 1922 ed è la prima industrializzazione per la produzione di motociclette per tutti quanti. La famiglia Parodi ha fatto un investimento molto importante a Mandello dell'Ario e ha cominciato a costruire questa moto che si chiama Normale che è stata costruita in circa 4.000 esemplari e questo è il numero 200, quindi la duecentesima moto che è uscita dalla catena di montaggio della Moto Guzzi di Mandello dell'Ario. È sempre stato un vanto la Moto Guzzi perché è rappresentato sia nel mondo delle corse sia nel mondo della motorizzazione civile un vanto per tutta la nazione. Ma queste moto in effetti posso dire che hanno più cura loro di me che io di loro perché sono resistenti, hanno oltre un secolo e rappresentano la solidità nel tempo.